Tra le società che sono sempre state presenti nel Meteoranum Baby Cup da diversa edizione abbiamo l'Accreda Rossa, qui abbiamo Antonio Censo che è un dirigente appunto di questa società. Una manifestazione che vi ha sempre visto presenti soprattutto perché porta avanti dei valori che anche la vostra società condivide, quello di divertirsi, di far divertire i ragazzi, di far sviluppare soprattutto una coscienza del fair play. Quali altri valori anche cercate di esprimere? Allora, prima di tutto buonasera a tutti e poi da quest'anno noi oltre ai ragazzi facciamo parte dell'Accademia del Torino, perciò rappresentiamo anche loro. I ragazzi per noi devono crescere con dei simboli, divertimento, fair play e rispetto per gli altri. Voi siete una società soprattutto che date molta importanza anche oltre all'aspetto naturalmente sportivo, anche a quello diciamo agonistico della crescita tecnica. Molte volte io mi sono ritrovato a commentare la vostra squadra sempre nelle finali, quindi vuol dire che date anche comunque molta attenzione, particolare attenzione alla crescita tecnica dei giocatori, non soltanto dei valori sportivi. Sì, noi cerchiamo comunque di far giocare tutti, però cerchiamo anche di far crescere i nostri ragazzi, poi ci contraddistingue il non mollare mai, è quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi.